Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna ha vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza ha chiuse le corsie di sorpasso tra Montelupo ed Empoli Est in entrambe le direzioni chiuso lo svincolo di Montelupo in entrata in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!